Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrei iniziare appunto raccontandovi come è iniziata. Io ho partecipato al mio primo WordCamp qui a Torino nel 2016 e per me è stata appunto la prima esperienza e quel giorno ho sentito per la prima volta parlare di meetup e ho scoperto cosa fosse. E volevo sapere innanzitutto tra di voi chi nella propria città non ha un meetup o non ha mai partecipato a un meetup. Ok. Allora, quel giorno il relatore del talk ci ha lasciato con questa frase. Se non esiste un meetup nella vostra città e voi siete qui, siete voi la persona che deve organizzarlo. Quella per me è stata una frase che ha segnato il mio destino perché io mi sono guardata intorno, in quel momento non c'era nessun altro della mia città e quindi mi sono detta ok, proviamoci. E ho iniziato a fare ricerche appunto, ma mi sentivo veramente in quel momento incapace perché dicevo ma perché proprio io che non ho particolare esperienza perché comunque utilizzavo Wordpress solo da un paio d'anni e non avevo esperienze nell'organizzazione. Quindi per me è stata un po' una sfida all'inizio. E qui iniziamo con il primo consiglio che mi sento di darvi se volete appunto avventurarvi in questa avventura è trovatevi un compagno di viaggio. E questo perché appunto si sente meno soli, ci si può condividere idee per l'organizzazione. E qui va avanti la mia storia perché quell'anno a Torino c'era anche Giulia, una ragazza che faceva per la prima volta la volontaria qui a Torino e che anche lei entrava a far parte di questo mondo dei WordCamp. Voleva aprire anche lei un meetup nella sua città, poi ci hanno messo in contatto online e abbiamo deciso per vicinanza di aprirlo comunque a Verona. Per me è stata una fortuna grandissima trovare lei perché appunto in due e soprattutto due teste sono sempre meglio di una. E quindi ci si può un po' aiutare. La seconda cosa è trovatevi un posto. Allora potete cominciare a guardare attraverso co-working, luoghi pubblici eccetera. Vi do questo consiglio che mi è venuto in mente oggi parlando con un amico. non mandate solo la mail, presentatevi proprio di persona, andate a parlare con le persone e chiedete se hanno volontà appunto di ospitare questo incontro perché per loro è sempre molto importante avere persone nuove che visitano la location, soprattutto perché la maggior parte di noi sono freelance ecco e quindi potrebbero essere interessati agli spazi e potrebbero diventare appunto loro clienti, quindi il co-working può diventare il vostro sponsor. Se non ci sono co-working cercate anche in biblioteche, sale pubbliche, luoghi dove di solito vanno le associazioni magari perché ci basta veramente avere delle sedie, un tavolo, una stanza dove poter parlare in tranquillità. Se non riuscite a trovare niente neanche di questo tipo, anche dei bar locali, magari luoghi un po' silenziosi, però comunque anche due o tre persone che si trovano in un bar a parlare di WordPress è a tutti gli effetti già un meetup. A questo punto non ci resta che trovare nella nostra città la nostra community. Dobbiamo trovare delle persone che siano speaker ma anche persone che vengano a partecipare. Muovetevi ovviamente cercando tra la vostra lista di contatti, amici, collaboratori, colleghi che sapete utilizzino WordPress, quindi possiamo andare oltre che attraverso la piattaforma Meetup, che comunque è il canale ufficiale dove noi condividiamo gli eventi, anche attraverso i social ovviamente, ma è fondamentale muoversi anche offline. Noi ad esempio abbiamo stampato dei volantini, abbiamo distribuiti presso scuole, università, luoghi dove sapevamo che c'erano uffici e questo vi permette di avere già un contatto più diretto e muovervi proprio sulla città. Bene, a questo punto gli speaker. Non abbiamo gli speaker, nessuno si candida a parlare. Non è così facile, ve lo posso assicurare, essere da questa parte. E' molto difficile trovare persone che si candidano volontariamente per parlare di un argomento. Però, come dice la guida, don't panic, non facciamoci prendere dal panico perché ci sono veramente tanti modi diversi di organizzare una serata. Potete semplicemente scegliere un argomento, noi ad esempio lo chiediamo sul gruppo Facebook di cosa volete parlare stasera e intavoliamo una tavola rotonda dove ogni persona ha modo di condividere la sua esperienza su quell'argomento. Questo è un modo fantastico per far sentire a tutti a proprio agio e comunque avere un po' l'esperienza di tutti. Ad esempio, uno dei meetup particolari che abbiamo organizzato è stato in occasione del primo compleanno del nostro meetup. E come vedete appunto l'abbiamo organizzato in un bar e avevamo deciso che dopo un anno alcune delle persone che frequentavano prestitivamente il nostro meetup ancora non si conoscevano e quindi volevamo proprio creare un momento di scambio tra le persone. E abbiamo organizzato questo business speed date, l'abbiamo chiamato. Le persone si sedevano appunto in fila attorno ai tavolini e avevano due minuti per presentarsi, scambiarsi i biglietti da visita, insomma condividere quello che facevano di lavoro per creare appunto un momento di relazione e favorire nuovi contatti di lavoro anche. Infine, l'ultimo consiglio, quello più importante di tutti, no stress. I meetup, come vedete anche dai work camp, sono degli eventi molto informali e a noi piace veramente far sentire le persone a proprio agio. Soprattutto pensiamo che ci troviamo sempre alla sera, quindi un momento in cui siamo tutti stanchi, stressati dalla giornata e quindi è importante creare un momento divertente, magari creare un momento aperitivo, portare qualcosa da bere, chiedere alle persone se vogliono appunto portare delle bibite, patatine, creare appunto questo momento aperitivo per far parlare alle persone. Infatti come vedete ai nostri meetup c'è sempre la tavola piena di cose da mangiare. Bene, quindi se nella vostra città non esiste un meetup, anche voi potete farlo. Per me è stata un'esperienza bellissima in questi due anni. Io sono fiera di essere qui oggi e soprattutto di essere riuscita a portare qui altre quattro persone che provengono dalla mia community, quindi che sono venute da Verona come me. E anche di dire che insieme a loro stiamo organizzando il primo work camp anche a Verona. Questo per me è veramente un onore. Quindi, grazie. E quindi sono qui anche per invitarvi, per dirvi di non prendere assolutamente impegni per il 12 e il 13 ottobre, perché vi aspetteremo tutti lì, che sarà la festa appunto della nostra community. E quindi vi voglio lasciare oggi con la frase che per me è stata tanto importante. Se nella vostra città non esiste un meetup, siete voi la persona che deve aprirlo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.